Si intensifica la campagna sui referendum promossi dalla CGL per l'abrogazione dei voucher e per la responsabilità solidale in materia di appalti, in attesa che il Governo fissi la data per la consultazione che dovrà tenersi entro il 15 giugno. Anche a Salerno oggi il sindacato ha promosso un incontro e presentato il gruppo di sostegno per il sì. Libera il lavoro con due sì, il nome scelto per aggregare diversi esponenti del mondo della cultura, della scuola e della ricerca e sostenere così la campagna referendaria che verrà effettuata prevalentemente con attività di volantinaggio. Si stamattina anche a Salerno, così come in tutta Italia, la CGL dà avvio alla campagna elettorale per due sì convinti all'abrogazione di norme che fondamentalmente hanno messo fortemente in discussione i diritti dei lavoratori in questo Paese. E' in riferimento tanto ai voucher, all'utilizzo smodato e illegittimo che viene registrato qui a Salerno come in Campania e come in tutta Italia e alle norme che non consentono un regolare passaggio da un appalto all'altro ai lavoratori che noi siamo impegnati a sostenere una campagna elettorale appunto perché vengono cancellate queste norme inique che non garantiscono alcunché verso il soggetto più debole e quindi il lavoratore. Grazie a tutti.